Fondamentale perché l'analisi di reperti e tracce raccolti su scena del crimine sono sempre un punto estremamente importante. Vedremo però. Su cosa si faranno le perizie? Adesso vedremo. Tutti quei reperti e tracce raccolti sulla scena del crimine, quindi da questo punto di vista nell'auto, intorno all'auto, il bidone e così via. Va bene? Ci vediamo tra poco. Grazie, grazie.